Qua non c'è sicurezza, qua depenalizzano il furto, lo spaccio, la rapina e i risultati si hanno purtroppo contando i morti e i feriti. È un paese che Renzi vuole far girare al contrario, è nostro dovere farlo tornare alla normalità. Ci avevano detto che Mare Nostrum era finito e non sarebbe sbarcato più nessuno, che ne sbarcano a migliaia ogni settimana. C'è qualcosa che non va, però non possiamo limitarci a dire quello che non va, stiamo preparando un'alternativa per essere governo, arrivare al governo, mandare a casa Renzi i suoi amici e le sue amichette e provare a far ripartire questo paese che è fermo.